I clienti festeggiano l'ingresso in negozio dopo lunghe code, saranno loro a godere per primi degli sconti del Black Friday, cioè il calcio d'inizio dello shopping natalizio che negli Stati Uniti segue il giorno del ringraziamento. Tra il venerdì nero, così chiamato perché i bilanci dei commercianti vanno in attivo, e lunedì prossimo, giorno degli sconti online, si prevedono vendite per 80 miliardi di dollari. Le promozioni sui televisori sono ottime, meno che a metà prezzo. Sono arrivato alle tre e mezza di mattina, aprivano alle cinque, per cui un'ora e mezza di attesa o giù di lì, però siamo davvero soddisfatti degli acquisti fatti. Una tradizione che sta attraversando l'Atlantico, qui siamo nel Regno Unito, dove secondo gli analisti, tra negozi e online, i consumatori spenderanno oltre un miliardo e mezzo di sterline. Un salto del 20% rispetto al 2014. Il Black Friday è la più importante giornata dello shopping globale, ad eccezione della festa dei single cinese. Ormai è ben radicata. Gli esperti, sia in Europa che negli Stati Uniti, notano come quest'anno la componente online si è esplosa. Invece di aspettare lunedì, i giganti dell'e-commerce, seguiti dalle grandi catene, hanno iniziato a lanciare promozioni sui siti fin da giovedì. Presto, dicono, dovremo parlare di Cyber Friday. Dei!